Buongiorno, ciao a tutti e benvenuti all'ottava puntata di questo mio cammino, di questo mio racconto, questo mio cammino per Santiago. Allora, sono arrivato a Hospital de Orbigo, mi ricordo che vi avevo raccontato che ero arrivato un po' dolorante, molto affaticato a Hospital de Orbigo e avevo incontrato una compagnia di giovani medici, comunque giovani laureanti in medicina, tutti spagnoli. Allora, la notte non è affatto buona, assolutissimamente, sento dolori dappertutto, dolore al tendine, dolori sotto i piedi, dolori muscolari, è veramente un inferno, a questo bisogna aggiungere il gran caldo e anche purtroppo una festa, una festa a Hospital de Orbigo dove si sente cantare quasi tutta la notte, accidenti, io non sopporto il rumore, il chiasso, specialmente in questi ambienti dove si cerca veramente la pace, sentire cantare, suonare fino a tardanotte mi dà veramente fastidio. Lo trovo assurdo, lo trovo assurdo, anche perché disturba il riposo dei pellegrini, però queste sono tradizioni, non so che festa sia, non so che cosa si sta celebrando in questo paese, sta di fatto che la musica va avanti fino a tardanotte, tant'è che a un certo punto decido di alzarmi dal letto, scendo a fatica questa scaletta del mio letto a castello e mi reco verso, esco dall'alberghe del pellegrino e vado verso questi suoni, questa musica, questo chiasso lo chiamerei. Questa musica arriva da sotto il ponte, praticamente in uno spiazzo, in un grande parco, si fa festa, si fa festa, io non riesco a comprendere, divento matto, mi arrabbio anche, ma possibile mai, possibile mai che in un paese così di passaggio, di tanti pellegrini ci sia gente che faccia chiasso, faccia festa fino a tardanotte, tant'è. Arrivano le due di notte, io sono ancora sveglio, mi rendo conto che tra poche ore dovrò rialzarmi per partire di nuovo e allora torno nell'albergo e cerco di prendere sonno, anche se con dolori veramente molto alti, molto forti. Mi sveglio alle 5 e mezza, quindi dormo un tre ore e mezza, non di più, mi sveglio prima di ogni altro pellegrino all'interno dell'alberghe e cerco di mettermi in moto, allora la fatica è tremenda, faccio fatica a mettere le calze, faccio fatica a mettere le scarpe, veramente ho dolore da perduto e sento un dolore fortissimo il tendine della gamba destra, del piede destro. Come faccio? Come faccio a fare 40 chilometri ancora oggi? Non ce la farò mai, infatti credo che, credo di aver terminato il mio cammino, sono preso un po' dalla disperazione, in queste condizioni non ce la farò mai arrivare a Santiago entro il 23 di luglio e mancano solo 6 giorni e mancano 260-270 chilometri l'arrivo. Accidenti, devo gettare la spugna, devo scrivere sui social che non ce la farò e deludere tutti quelli che mi avevano accompagnato attraverso messaggi di conforto fino a quel momento. La delusione è veramente grande, però cerco comunque di mettermi in moto. Solo per attraversare il ponte, che sarà lungo forse in 200-250 metri, ci impiego un quarto d'ora. Un quarto d'ora per fare 250 metri è tremendo. Però è anche vero che l'inizio è sempre la parte più difficile, sembra di rimettere in moto una vecchia macchina che poi messa una volta in moto riesce ad andare abbastanza speditamente. Infatti, malgrado i dolori, malgrado i dolori lancinanti che ho al tendine, riesco comunque a camminare pianissimo, con una media bassissima di 3-4 chilometri all'ora, una media impensabile prima di questo giorno, riesco a rimettermi in moto. E quasi subito incontro Franzisk. Franzisk è un ragazzo, un signore diciamo che ha qualche anno più di me, tedesco, di una gioia indescrivibile. È felice, si vede, lo si legge negli occhi proprio. È felice di questo suo primo cammino, è rimasto entusiasta dei posti che ha visto. È rimasto sorpreso veramente di questa forza che aveva dentro. E niente, con Franzisk scambiamo delle parole in inglese, nel nostro inglese, sia quel poco inglese mio e suo, ma riusciamo a fare amicizia, diciamo che riusciamo a camminare per un bel pezzo di strada. Il fatto di stare vicino a Franzisk mi aiuta molto, mi fa dimenticare i miei dolori. Ecco, mi fa dimenticare i miei dolori, ma quando giungo alle 10 e mezza a Storga, allora decido di fermarmi. Ho percorso solo 17 chilometri questa mattina, però ho bisogno di riposo. Ho bisogno di riposo, ho bisogno di prendere dei medicinali, assolutamente, perché così non posso andare avanti. Allora, malincuore, saluto Franzisk, Franzisk e niente, trovo il mio albergo del pellegrino, che è quello dell'Apostolo, che prende il nome dell'Apostolo. E niente, tra l'altro è un albergo fornito molto carino, disposto su due piani, proprio vicino alla cattedrale di Gaudì, e vicino, scusate, vicino al palazzo Gaudì e vicino alla cattedrale, che sono due edifici molto belli adiacenti. Niente, è all'albergo del pellegrino, la prima cosa che faccio, prendo posto quindi, e mi recco in farmacia, a fatica, mi trascino, diciamo, in farmacia e qui faccio presente tutti i miei problemi fisici al farmacista. Il farmacista mi riempie di medicinali, mi dà degli infiammatori, mi dà delle pomate, mi dà un plantare da mettere sotto la scarpa, insomma, spendo un sacco di soldi in farmaci. Diciamo che i farmacisti e i fisioterapisti sono tra le professioni più ambite lungo il Camino di Santiago, perché non falliranno mai e non fallirebbero mai. Niente, mi dà le indicazioni, mi dice di prendere tre pastiglie al giorno di questi antinfiammatori che sicuramente starò meglio l'indomani. Io mangio subito, mangio presto e praticamente mi ingollo subito la prima pasticca, mi riempio di pomate, faccio pediluvie con acqua fredda e sale all'interno dell'alberghe e niente, cerco il riposo assoluto. A un certo punto ho un messaggio, ho un messaggio di Cristiliane. Vi ricordate Cristiliane? Quella ragazza brasiliana che ho incontrato nella prima tappa e mi dice che sta arrivando ad Astorga, incredibile, in bicicletta. Mi fa troppo sorridere la cosa perché Cristiliane chiaramente aveva un passo più lento del mio e aveva deciso di alternare parte del percorso a piedi e in bicicletta. E in bicicletta, pensate un po', riesce ad arrivare ad Astorga nel primo pomeriggio. Io facendo tutto a piedi sono arrivato prima di lei che aveva utilizzato la bicicletta. Niente, è una gran gioia, rivedere Cristiliane è una gran gioia e decidiamo che mangeremo insieme la sera, insieme a Ilario, che tra l'altro l'aveva scortata, un altro ragazzo brasiliano. Quindi andiamo a fare la spesa, anche lì facciamo la spesa, compriamo i soliti spaghetti. Anche Cristiliane ci tiene molto che cucini io la sera. Purtroppo noi italiani ci portiamo avanti questo mito del bravo cuoco, del bravo cuoco delle persone che sanno cucinare bene. Io senza essere un grande cuoco, diciamo che riesco a cavarmela in cucina e per fare un piatto di pasta ancora ai pomodori e olio, ai pomodori freschi, per me è una sciocchezza. Praticamente ci andiamo insieme, insieme a Ilario e al gruppo si aggiunge Guilherme, ricordate Guilherme, quello ragazzo del giorno prima, quel ragazzo catalano, che mi passa il soldo spicchio di aglio per mettere insieme, per fare la pasta. Chiaramente piace a tutti, Cristiliane è entusiasta, fa le foto, la manda ai figli a casa e niente, è una cosa... Allora, adesso vi ricordate che vi ho detto che Cristiliane era una suora laica? Sì, una suora laica, quindi era già stata sposata ed era rimasta vedova e dopo la sua vedovanza mi ha preso i voti di suora laica oblata. Niente, io continuo, mi prendo la seconda pastiglia della giornata, mi prendo la seconda pastiglia della giornata e vado a riposare, vado a riposare salutando Cristiliane, che intanto alloggiava in un altro albergue, e Ilario, che era insieme a Cristiliane. Diciamo che passa una giornata molto riposante. Nel pomeriggio intanto avevo visitato la cattedrale di Astorga, che è bellissima, e sta vicino proprio al Palazzo Gaudì, che è un'opera straordinaria, di un'architettura straordinaria. Fantastico, veramente una cosa da vedere. Pensate che sette anni prima mi erano quasi passati inosservati i due edifici, invece con questa storia dell'infortunio e questa cosa del riposo assoluto sono riuscito a gustarmeli molto bene. Dormo come un sasso, dormo come un sasso, veramente una cosa eccezionale, forse non ho mai dormito così tanto, e la mattina dopo mi sveglio come se non avessi mai avuto niente, come se non avessi mai avuto nessun problema ai piedi, come se non avessi mai avuto nessuna vescica, è una cosa miracolosa. Stento a crederci, stento a credersi. Mi metto a camminare e non sento dolori, è una cosa straordinaria. E mi dico chissà, chissà cosa c'è dentro in quelle pastiglie che mi ha dato e che comunque dovrò comunque riprendere da lì fino alla fine del mio cammino. In ogni caso viaggio su una nuvola, cammino su una nuvola, riprendo il mio passo dei 5 km orari di media e continuo il mio cammino. Arrivo a Santa Catalina da Samosa, Santa Catalina da Samosa e qui ho il mio primo break, la mia prima pausa dove comincio a fare la vera colazione del mattino dopo aver mangiato qualche biscottino. Santa Catalina di Samosa, allora, ogni posto che raggiungo mi fa venire in mente i tempi dei sette anni prima, chiaramente. Quindi a Santa Catalina di Samosa mi ricordo di aver conosciuto Raymond, quel ragazzo tedesco fantastico di Bielefeld che mi aveva poi accompagnato fino alla fine del cammino. E niente, alloggio, alloggio, non alloggio, faccio colazione proprio nel bar in cui avevamo alloggiato sette anni prima e lì chiaramente i ricordi si affollano, ovviamente. Dopo Santa Catalina di Samosa ho un bellissimo incontro con un gruppo di ragazzini che vanno dai 8 ai 10-12 anni. È una colonia, una colonia spagnola che sta facendo un tratto di cammino e praticamente sta viaggiando insieme, sta camminando insieme e insieme ai propri educatori. Ci sono 3-4 ragazzini che mi vedono da solo e mi si avvicinano, vogliono far conoscenza, sanno che sono italiano, sanno che sono un insegnante e quindi si appassionano, si incuriosiscono un pochettino e mi dicono che non è giusto che io cammini da solo, devono avere la mia compagnia e questa cosa mi riempie il cuore. Parliamo di scuola, parliamo di calcio, parliamo di Inter, parliamo di Real Madrid, parliamo di Barcellona, è fantastico, è fantastico. Questi ragazzini sono veramente eccezionali, uno in particolare è Pedro, attira la mia curiosità, la mia simpatia perché veramente è un vulcano, è un vulcano. Quindi mi scortano per un tratto di strada, per forse una decina di chilometri, dopodiché loro devono fermarsi, devono fermarsi perché loro sono giunti alla loro meta, mentre io devo proseguire perché chiaramente il percorso per me non è ancora terminato. Allora mi accorgo di essere arrivato vicino alla meta, ormai la meta vista solo poco più di 200 chilometri, perché a Fonsebadon quando mangio non mi danno più la birra, la San Miguel, ma la Estrella Galizia. La Estrella Galizia è la birra tipica della Galizia, quindi sapete che Santiago è nella regione della Galizia, e quindi la birra che si usa in questa regione è proprio la Estrella Galizia. Mangio, mangio bene, dopodiché riparto. Appena dopo Fonsebadon arrivo in uno dei luoghi più rappresentativi di tutto il cammino, che è la Cruz de Hierro, la Croce di Ferro. La Croce di Ferro è in cima a una montagna, diciamo, sui 1300-1400 metri di altitudine, e ha questa particolarità. Su questa cima si erge una croce altissima, piantata su un cumulo di sassi, piantata su un cumulo di sassi. Allora i sassi che ci sono sotto questa croce sono quelli portati da tutti i pellegrini che vengono a tutto il mondo. Si dice che ogni pellegrino debba portare un sasso, una pietra, che rappresenta un po' le fatiche della vita, il peso della vita, e lasciarlo su questa croce. Quindi lasciare tutte le fatiche, scaricare tutte le fatiche della vita, tutte le paure, rancore, eccetera, e affidarle a nostro Signore. Anch'io le mie pietre, chiaramente, qualcuno anche la raccolgo lungo il tragitto, e pongo questa mia pietra sotto questa croce, e su questa pietra scrivo con un pennarello indelebile che ho il mio nome, il mio cognome, da dove vengo e la data del giorno. È un momento molto emozionante anche questo, la Cruz de Hierro rappresenta veramente uno dei punti cruciali di tutto il cammino. Comunque, fatta la sosta la Cruz de Hierro con le foto di rituali, prosegue il mio cammino che adesso è in discesa, in discesa, e arrivo a Riego de Ambros, Riego de Ambros è un paesino piccolissimo, proprio un paese di montagna, quattro anime, quattro mucche e poco altro, e prendo alloggio nell'unico albergo del pellegrino che c'è, poco frequentato chiaramente, poco frequentato, e ho a mia disposizione, mi sembra una suite, diciamo un posto da quattro letti, ma dove ci sono solo io, e per me è il massimo. Vado, continuo a prendere i miei medicinali, le mie cure, i miei pediluvi con acqua fredda e sale, e niente, vado a cenare nell'unico posto aperto di quella zona, che è un ristorantino molto carino, anche questo, consumo il mio pranzo del pellegrino e approfitto della rete wifi per mandare in giro i miei messaggi. Ormai mancano poco più di 200 chilometri e mancano cinque giorni alla fine del mio viaggio. dovrò accelerare un pochettino, 225 chilometri sono 45 chilometri di bendi al giorno, e purtroppo la tappa che mi ha portato a Storga mi ha un po' rallentato, diciamo, nella mia media, però è un tratto che riesco a fare. Io grazie al cielo non ho più dolori e quindi conto di fare tutti questi chilometri da qui alla fine. Bene, quindi a Rego de Ambros ci lasciamo e ci rivediamo per la prossima puntata. Un abbraccio, un bacio, ciao!